Eccoci allora ben ritrovati, subito dopo la nostra sigla come sempre presentiamo il tema di oggi e le nostre ospiti per curare se stessi quale miglior modo, quali migliori risposte se non quelle provenienti da se stessi sembra un gioco di parole ma l'espressione contiene una verità di fondo, in realtà ancora di battuta, oggetto di confronto ci riferiamo all'uso dell'ipnosi nella cura psicologica psicoterapeutica, lo spunto ci viene offerto da un libro di recente pubblicazione carissima dottoressa a cura di Anna Cagliati, un libro di lettere che raccontano appunto le sedute di ipnosi narra di vite vissute, lettere che rievocano momenti di un percorso volto a ritrovare se stessi il nostro inconscio ha tutte le risposte che stiamo cercando, ci vuole solo un buon traduttore questo afferma l'autrice che è in studio qui con noi, Anna Cagliati, ben trovata ciao psicologa, psicoterapeuta, specializzata in ipnoterapia ericksoniana sono andata bene? benissimo con lei Elena Ventura, docente di filosofia e counselor filosofico ha il titolo di filosofo pratico conseguito con la scuola Parresia di Bologna ben trovata allora Anna è un tema abbastanza difficile perché ci inoltriamo in un percorso che non è semplicissimo che è quello appunto della nostra mente, del nostro inconscio tu sei destinataria di queste lettere perché carissima dottoressa è proprio indirizzato a te, allora intanto partiamo dalla fine, perché hai pensato di pubblicarle? perché sono lettere che ti sono arrivate ovviamente all'esito di percorsi psicoterapeutici quindi a conclusione di un percorso che possiamo dirlo ha salvato tantissime persone, uomini e donne perché di questo parleremo anche nel corso della puntata intanto l'esigenza di pubblicarle allora buonasera a tutti, grazie è una bella occasione poter parlare di questo libro tutto nasce appunto dal fatto che mi sono arrivate delle lettere di pazienti a Natale è cominciato con Natale e poi via via e mi dispiaceva molto poi mi chiedevo che cosa potessi farne di queste lettere distruggerle no perché erano cariche d'affetto e mi è venuta l'idea appunto a un certo punto di pubblicarle perché? perché credo che sia il momento giusto proprio per parlare di ipnosi una parola che a prima chito in qualche modo destabilizza e in realtà perché il grande timore è di perdere diciamo il controllo di se stessi ma questo non è assolutamente possibile perché stiamo parlando di un rapporto con lo psicoterapeuta quindi un rapporto altamente etico e professionale dove non c'è assolutamente perdita di controllo ma la persona è estremamente rilassata e si affida allo psicoterapeuta come dice il mio professore che ha curato la prefazione io ci ho tenuto molto perché fosse un libro che si dovesse leggere con facilità un libro che prende come un romanzo ma doveva avere sempre un taglio e una connotazione scientifica e appunto il mio professore dice che alla fine quello che serve a uno psicoterapeuta sono delle buone antenne cioè stabilire un contatto empatico profondo per cui la persona che viene a studio si affida e questo non è semplice perché è chiaro che ci sono tutta una serie di meccanismi di difesa e come scrivo appunto da una parte c'è una persona che soffre molto dall'altra c'è uno psicoterapeuta sarebbe facilissimo in realtà c'è anche molta resistenza perché la parola poi più complicata è il cambiamento anche nella sofferenza anche nelle difficoltà noi tendiamo a reiterare le nostre azioni perché ci danno sicurezza, la comfort zone e in realtà non può diciamo mutare nulla se non cambiamo noi in primis e quindi l'inconscio appunto a tutte le risposte ci vuole appunto un buon traduttore è chiaro che le persone, persone dipendenti è più facile che vadano in una trance profonda persone ipercontrollanti è molto più difficile che vadano in una trance o è più impegnativo perché si vede che sono persone che hanno sperimentato delle situazioni non buone nelle relazioni e quindi pongono sempre, si mettono in, giocano in difesa in realtà poi se comunque la situazione è di grande dolore, di grande sofferenza e hanno di fronte una persona di cui si fidano è chiaro che poi si lasciano andare ed è tutto più semplice come dico sempre e come è chiaro, mi auguro dal libro è la persona che risolve se stessa con l'aiuto dello psicoterapeuta io dico sempre, io sono una stampella tu adesso ti appoggi, ti aiuto a camminare ma poi il mio destino è essere messa da parte andare dallo psicologo a vita non credo che sia proprio una soluzione brillante lo psicologo deve lavorare come un buon genitore perché poi le dinamiche sono molto simili perché tu ti affidi ma poi lo abbandoni e vai per conto tuo Elena, hai firmato un capitolo all'interno di questo poi ne parleremo in maniera più approfondita nel corso della puntata però il titolo del tuo capitolo La mente mente, i sogni mai è estremamente evocativo è chiaro, no? diciamo il fine ultimo dove vuoi arrivare ecco, come nasce questa collaborazione con Anna? Allora, la collaborazione con Anna è stata una collaborazione che mi ha entusiasmato da subito perché noi siamo legate indirettamente siamo sorelle, lei dice, sorelle da parte di padre da parte di padre perché io ho avuto il papà di Anna come mio docente di filosofia e mi ha lasciato tanto il rapporto con lui una persona veramente profonda che mi ha dato tanto tanto di aver deciso di fare questa carriera Sì, 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 di cominciare gli studi filosofici e di portare avanti anche degli studi filosofici anche un po' alternativi, nuovi rispetto al passato e quando ho conosciuto Anna per caso ho scoperto che era la figlia del professor Cagliati mi è sembrata quasi un non so, una coincidenza non proprio casuale quando mi ha chiesto di collaborare l'ho fatto entusiasticamente come facciamo anche per altre situazioni e sono molto contenta di aver dato un contributo filosofico al suo percorso che invece è un percorso diciamo psicoanalitico da psicoterapeuta esperta in ipnosi ecco, questo rapporto mente inconscio ecco, spieghiamolo adesso velocemente poi ritorniamo sull'argomento perché mi dà la possibilità poi di parlare con Anna più nello specifico proprio del rapporto con l'inconscio l'inconscio, come dice lei, vicino a gestirlo vero? l'emozione vero? certo noi abbiamo pensato di chiamare questo mio contributo la mente mente perché dopo tanti anni di studi filosofici mi sono resa conto che la mente non è tutto e che noi dal razionalismo in poi abbiamo interpretato tutto in maniera razionale mentre esiste un irrazionale che sfugge alla capacità nostra umana di catalogarlo ma che ha un valore importante che si lega proprio quell'inconscio quella parte che sfugge quell'irrazionale si lega alla parte inconscia dandoci la possibilità di avere una visione più olistica dell'individuo ecco perché ho collaborato con entusiasmo Anna allora parliamo di questo inconscio perché poi è da lì che parte tutto e quindi spieghiamo anche la validità di questa tecnica appunto di cura che cosa intendiamo per inconscio e soprattutto che cosa intendi quando parli di gestione appunto dell'inconscio certo allora mi rifaccio a delle frasi che possono che rimangono belle scolpite sono di Jung che ha studiato molto l'inconscio dopo Freud ovviamente e Jung dice rendi consapevole il tuo inconscio altrimenti sarà lui a guidare tu lo chiamerai destino perché è chiaro che se non ti rendi conto che tutto quello che ti capita tutto quello che ti succede tutto quello che fai comunque nasce da te anche se tu non ne sei consapevole perché la differenza è tra essere consapevole e agire in inconsapevolezza e quindi questo è un invito alla psicoterapia nel mio caso alla ipnoterapia e un'altra cosa che dice Jung dice tutto quello che neghi ti sottomette tutto quello che tu accetti ti fa crescere e anche questa è una frase molto forte Jung per esempio ecco possiamo in questo momento quasi simulare una situazione come a studio se chiudessimo gli occhi potremmo immaginare l'inconscio come un atollo dice Jung un bellissimo atollo in un mare stupendo l'atollo e tutti i suoi abitanti sono è la parte consapevole ma tutto l'immenso oceano è la parte inconsapevole del resto anche Freud aveva parlato dell'iceberg quindi la puntina che si vede molto piccola è la parte più grande inconsapevole ora questo bellissimo oceano quando è calmo tranquillo va benissimo però quando comincia un po' a muoversi o addirittura il maremoto allora bisogna in qualche modo intervenire per esempio penso fra le tante cose tra le tante esperienze che ha avuto il caso di una paziente che veniva a studio in sedia a rotelle poteva camminare aveva fatto tutti i controlli ma lei non camminava lei era in sedia a rotelle quindi è potente l'inconscio perché poi finalmente anche i medici oggi soprattutto i nuovi medici ci dicono che effettivamente la mente nel senso dell'inconscio dell'inconsapevolezza delle emozioni condizioni del corpo tantissimo oggi finalmente e io sono felicissima si parla di cure personalizzate del fatto che una persona reagisce in un modo al farmaco e allo stesso farmaco un'altra reagisce in un altro modo quindi siamo noi siamo unici e quindi è chiaro che il rapporto è unico personale e il percorso è unico e personale come ti sei avvicinata all'immonosi? allora tutto è nato perché avevo cominciato a leggere dei libri e mi sono sentita molto in sintonia e ho cominciato a scrivere ho scritto in America al centro Ericsson per chiedere qual era il centro riconosciuto in Italia perché ce ne sono tanti di situazioni non proprio chiarissime e mi hanno detto che riconoscevano solo il centro di Napoli quindi ho cominciato a scrivere a tappeto e chi mi ha risposto è stato il professor del Castello che ha detto io ho chiesto se dovevo fare un master un corso e lui mi ha detto dottoressa lei sono dieci anni che fa psicoterapia lei è una psicoterapeuta deve solo imparare la tecnica quindi dice si unisca a noi si unisca al nostro gruppo e quindi io per circa sette otto anni sono andata avanti e dietro da Napoli e ho imparato la tecnica inserendola chiaramente in una situazione di già studio perché c'è questo pregiudizio nei confronti dell'ipnosi intanto ce la puoi definire cioè che cosa intendiamo per ipnosi e perché c'è questo pregiudizio nei confronti di questa tecnica di cura l'ipnosi è un momento di trance ecco di trance che poi conosce vari livelli a secondo appunto se è il primo incontro secondo incontro quando poi la persona si abbandona si affida diventa una trance molto profonda però io sottolineo sempre che come quando noi vediamo un film e siamo presi dal film e non ci rendiamo conto del tempo che passa però se suona il telefono noi ci alziamo e andiamo a rispondere quindi non perdiamo mai il contatto con il reale però siamo molto 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 rilassati è chiaro che poi sono state studiate anche tutte le alterazioni del corpo perché nel senso che il cuore batte in un certo modo più tranquillo più sereno il respiro e anche più calmo certi pazienti mi dicono addirittura di non sentire le gambe di proprio di essere talmente in trance però sono sempre consapevoli l'altra grande paura è che quando l'ipnoterapeuta ti conta e quindi tu perché io poi conto all'indietro e la persona apre gli occhi temono di non svegliarsi più sono tutte paure assolutamente senza alcun fondamento non c'è fondamento ma la paura più grande è la perdita di controllo quella è la paura più grande di ogni essere umano e dicevamo il pregiudizio secondo te invece qual è? cioè il fatto che non venga riconosciuto come dalla medicina cosiddetta scientifica cioè la medicina tradizionale ma diciamo che la medicina anche se qui ci sono stati fatti passi in avanti grandissimi passi in avanti mi viene in mente il dottor Facco che opera in ipnosi opera in ipnosi quindi ci sono dei grandissimi passi avanti a questo livello il timore è la non conoscenza ecco come sempre no perché noi abbiamo paura di quello che non conosciamo il timore è la non conoscenza ecco perché io a un certo punto ho detto va scritto un libro va fatto conoscere a quanta più gente possibile che l'ipnosi è un metodo velocissimo si configura come una terapia breve e risolutiva e in realtà non crea alcun danno oggi ho ancora pazienti che mi chiamano e mi dicono dottoressa possiamo incontrarci per fare ipnosi perché sento di averne bisogno e quindi e un po' loro dicono il massaggio dell'anima mi piace come la descrivo nel massaggio dell'anima la poltrona della libertà la poltrona del volo la chiamano in tanti modi quindi comunque sempre molto e mi dicono che nei giorni seguenti anche peraltro per molto tempo fino alla seduta successiva si sentono sempre molto bene molto tranquilli molto sereni l'altro elemento di cui tu parli nel libro è molto spesso l'ipnosi viene come dire paragonata o comunque quando si parla di ipnosi si pensa a quello che magari abbiamo potuto vedere in televisione ma come lo definisci tu sono cialtronerie perché ecco chiariamolo questo passaggio è certo perché ecco quella non è quella di cui stiamo parlando in questo momento perché lì effettivamente c'è la perdita del controllo cioè quello che balza poi che fa audience è proprio la perdita del controllo hai perfettamente ragione è un fenomeno da barracone lo chiamo io perché deve fare audience immagino che pensi a Giucca Scasella tutti quei personaggi che col pendolino e quindi la persona poi cade per terra o altro però si è anche visto che è molto spettacolo è molto spettacolare questo assolutamente non è ipnosi è chiaro l'ipnosi nasce con Freud è una cosa molto seria ed è diciamo impossibilità solo a medici e psicoterapeuti questo è importante dirlo lo dice anche il mio professore ci sono gli ipnotisti molti come ormai insomma tu sai c'è una vasta giungla di coach di ogni cosa ecco e lì poi ci si può perdere in realtà noi siamo nell'albo degli psicologi per cui noi abbiamo tutto un altro tipo di controllo però il discorso è che una persona può imparare benissimo la tecnica può applicarla ma come si legge nel primo caso una paziente ha scoperto in ipnosi di essere stata abusata da bambina e allora lì ci vuole poi lo psicoterapeuta questo è l'altro elemento di questa relazione siamo partiti dall'io dalla mente dall'inconscio attraverso lo strumento appunto dell'ipnosi la parte finale è appunto la persona competente che deve essere capace di raccogliere quello che emerge e che ovviamente ha una una così ampia possibilità di accadimenti perché ovviamente tu non sai quello che potrà accadere in ipni questo è il fascino del lavoro non sapere mai che cosa è la cosa bella tu entri in stanza di terapia ma devi essere pronta a saperla gestire ecco perché l'importanza che viene ribadita più volte il professore del castello accettava persone che avevano almeno dieci anni di studio psicoterapeutico perché è chiaro che poi devi avere anche una buona base e dicevi appunto è capitato questa ragazza questa donna che nel corso dell'ipnosi ha fatto emergere un abuso ma in realtà questo è uno dei casi che ti sono capitati ma tantissime poi problematiche possono emergere da paure inconscie che non vengono probabilmente accettate al fatto che ci sono degli eventi che hanno segnato la vita di ciascuno e che noi pensiamo magari non siano determinanti e che invece hanno lasciato il segno la persona viene in terapia con un sintomo un sintomo anche abbastanza doloroso spiacevole e come dico che spessissimo prende cioè prima compare magari una tantum poi diventa perché se tu non dai la risposta alla tua alla tua psiche lei continua a martellarti poi si ripresenta con maggior frequenza e anche con maggior intensità tanto che poi non ce la fai più non dormi più non mangi più non riesci più uscire di casa non riesci più andare a lavorare cioè diventa una situazione tale che devi necessariamente affrontarla intervenire quindi le situazioni sono le più le più disparate io ho cercato appunto di mettere la casistica è molto è molto ampia ovviamente non raccontiamo tutto perché sennò non avrebbe senso la lettura del libro che invece invitiamo a leggere dicevi Anna scusami no dico sì ovviamente invitiamo a leggere questo perché intanto l'altra cosa importante è che tutti i proventi vanno al poliambulatorio raccontiamo anche questo cioè non è un libro una pubblicazione fine a se stessa quindi ha un risvolto come dire sociale ecco raccontiamolo però sì sì io faccio parte del poliambulatorio San Giuseppe Moscati di Trani e tutti i proventi del libro andranno al poliambulatorio perché è come è facile comprendere dopo il covid le emergenze sanitarie sono quintuplicate c'è veramente tanto bisogno e ci sono dei grandi medici che ci sono messi a disposizione ma c'è bisogno poi anche di tante cose reagenti chimici insomma tutto quello che è necessario in un in un poliambulatorio l'idea è venuta al grande Angelo Guarriello quindi io sono venuta a parlare di questo proprio qui voi sempre mi accogliete e poi diciamo il libro lo si trova nella biblioteca la biblioteca di Babele a Trani in piazza Longobardi dell'ottima della splendida libraria mi piace chiamarla così Rosangela Cito che appunto ha colto questo invito a diciamo aprire la sua libreria a questo testo io sono diciamo molto grata all'editore Stefano Bianchi che è una persona veramente in gamba mi ha seguito passo passo ha compreso come fosse importante per me scegliere la parola la virgola perché è chiaro che io parlo di storie di storie dolorosissime e le persone poi sono andate a leggerle e la cosa che mi fa un immenso piacere è che tutti hanno detto quella è la mia storia e considerato che io non prendo appunti né uso la telecamera e sono storie che almeno si sono concluse da un anno perché volevo una storia conclusa quindi questo dà significato di come sono dentro di me queste storie cioè io le ricordo tanto da poterle scrivere in ogni loro passaggio Elena veniamo ai sogni allora l'abbiamo accennato prima tra l'altro i sogni rappresentati in questo vero Anna in questa copertina molto bella questa è di Silvia di Silvia Tolomeo che quando le ho chiesto per te cosa è l'inconscio come te lo vedi e lei ha detto beh l'inconscio è la nascita la famiglia gli animali l'amore il cosmo il cosmo anche la tranquillità del mare su cui c'è una vela che naviga come dovrebbe essere cioè e poi tutti questi colori che sono tipici di Silvia Tolomeo che è veramente molto in gamba e che ringrazio infatti è bellissimo allora Elena i sogni intanto è già curioso questo rapporto filosofia quindi razionalità come dicevamo prima è il sogno ma tu in questo caso sei portatrice di un'idea ben precisa no? che i sogni non mentono i sogni non mentono mai quando noi sogniamo sogniamo perché c'è sempre un messaggio che arriva per noi che può essere per noi o per chi è attorno a noi e il sogno da sempre è stato diciamo oggetto di curiosità dalla storia del mondo ci sono libri di oniromanzia che risalgono a due secoli prima di Cristo c'è l'onirocritica che è il testo di Artemidoro e sempre si è cercato un significato predittivo o addirittura c'erano studiosi che dal sogno cercavano di risalire le patologie del sognatore per curarle quindi il sogno è una dimensione che ci appartiene e che comunica con noi il problema è accogliere questi messaggi che arrivano e quello che io volevo lasciare con il mio contributo ad Anna era un importante messaggio cioè che il reale il reale in cui noi siamo inseriti è portatore di messaggi che non sempre sono visibili quindi anche se il sogno appartiene a una dimensione di noi soggetti che siamo col corpo e ci muoviamo nella realtà col nostro corpo in quella dimensione onirica noi riceviamo dei messaggi e questi messaggi li dovremmo ascoltare e insieme ai messaggi che magari parlano del nostro inconscio quindi questo è il campo in cui Anna si muove benissimo poi ci sono anche dei sogni che sono sogni premonitori ed era quello anche il messaggio che io volevo lasciare da filosofa certo messaggio un po' pericoloso cioè qualcosa che accadrà che accadrà che sta per accadere o che ti comunica qualcosa che è già avvenuta ma di una persona che da te in quel momento è lontana questa dimensione è una dimensione sulla quale secondo me la filosofia si deve interrogare perché se la filosofia parte dalle domande del perché dell'uomo e siamo noi quindi tutti filosofi indistintamente non gli studiosi siamo tutti filosofi nel momento in cui rimaniamo di fronte all'angosciato stupore dell'esistenza ma se c'è un sogno che ci anticipa qualcosa o ci ha comunicato qualcosa io credo che la filosofia debba interrogarsi e questa frase il reale comprende il possibile non ancora visibile è una frase che a me è molto cara perché è stata a me detta da un professore dell'università di Padova il professor Pisabia che purtroppo è deceduto poco prima di vedere pubblicate le sue parole su questo meraviglioso libro quindi questo è il messaggio che voglio lanciare che la filosofia si interroghi Elena però come ci dicevamo prima di iniziare questa puntata ma la difficoltà sta anche nella gestione dei sogni perché molto spesso appunto li si cataloga come sogni e che quindi pensiamo non abbiano nessuna attinenza con o magari ci raccontano quello che è stato il giorno precedente quindi una semplice rielaborazione della giornata oppure fanno emergere qualche nostro timore qualche qualcosa che ci portiamo dentro quindi una fase semplicemente così di di libertà del nostro modo di essere difficile quando catalogare puoi capire qual è il sogno che ti lascia un messaggio ecco certo anche Aristotele ha scritto tanti anni fa il parva naturalia dove lui diceva in fondo i sogni sono dei fantasma diceva in termine greco fantasma fantasmatos delle immagini che ci hanno colpito durante il giorno e che noi rielaboriamo però non tutti i sogni sono questo e io credo che quella nostra parte intima ed era il messaggio che volevo lanciare cioè c'è una parte di noi che è quella di pancia che non è quella razionale che ci fa sentire che non è un sogno banale quello che stiamo facendo che ha un messaggio nascosto ecco questa come lo leghiamo ecco al tema dell'inconsuo appunto di cui parlava Anna in questo momento che differenza c'è tra il sogno e l'inconscio cioè viaggiamo su due emisferi del linguaggio esatto il modo in cui il linguaggio dell'inconscio la strada maestra dice Freud esatto il modo in cui si comunica a noi razionalmente cosa il nostro inconscio ci vuole dire del resto la letteratura sull'interpretazione dei sogni è ricchissima è ricchissima però lasciando da parte i numeri cosiddetti il gioco dei sogni che è la cosa diciamo più banale associata ovviamente al sogno ecco dovremmo sforzarci come dite voi nel libro la mattina a notare magari prima che la mente sia poi subissata prima che arrivi la rimozione perché la rimozione è un'amica come tutti i meccanismi di difesa interviene dice Freud che il sogno in qualche modo protegge il sonno cioè noi nei sogni sono naturalmente proprio da interpretare perché sono ricchi di significato che però alla persona non devono disturbare perché deve continuare a dormire quindi è chiaro che poi ci vuole il traduttore ecco perché io invito sempre i miei pazienti ad avere un taccuino a scrivere e a portarli poi in terapia è chiaro che insieme conoscendo io la loro storia e il loro percorso possiamo dare un significato a questo sogno Anna dicevamo questi sono i sogni che hanno una come dire un linguaggio tutto da interpretare e che mai possiamo dire mentono o sbaglio non mentono mai i nostri sogni siamo noi stessi è una parte di noi che comunica a noi stessi e poi secondo me sta a noi ascoltarli o farci aiutare come fa Anna a decodificare a comprenderne il messaggio il messaggio e invece tu dici i ricordi sono inaffidabili no? che significa? non possiamo affidarci ai ricordi perché oggi sappiamo che la memoria non è una macchina fotografica nel senso che nei nostri ricordi intervengono tantissime cose tant'è vero intervengono anche cose che non abbiamo assolutamente fatto e vissuto perché interviene un nostro desiderio un nostro bisogno il racconto di un'altra persona quindi prendere per perfettamente reali i nostri ricordi non è assolutamente così perché c'è la parte frontale ovviamente ma c'è anche l'ippocampo l'amigdala che intervengono e quindi le emozioni le emozioni poi cancellano amplificano è un lavoro veramente meraviglioso quindi è un'illusione di verità il ricordo il sogno invece è chiaro che dice esattamente quello che è durante l'ipnosi affiorano quelli che si i ricordi affiorano i ricordi che naturalmente però vengono sempre filtrati dai sogni e da il racconto della persona dal suo percorso è un lavoro estremamente minuzioso molto minuzioso ma molto affascinante io dico sempre al paziente abbiamo questa situazione mettiamo insieme tutti i pezzettini e alla fine il puzzle si ricomporrà quindi è un lavoro proprio preciso puntuale costante che però io lascio che sia il paziente a guidare io sono un'ipnoterapeuta particolare nel senso che come scrivo loro possono assentarsi possono tornare possono venire possono smettere tanto quando comincia il lavoro va avanti per conto suo non puoi fermarlo più quando cominci ad aprire quella porta il lavoro quindi dopo un certo tempo loro tornano dottoressa adesso sono pronta per affrontare questo dottoressa è il loro tempo i tempi sono importantissimi perché ognuno ha i suoi tempi io non posso correre avanti e trascinarmeli perché li distruggerei io li seguo li aiuto li sostengo li supporto ma vanno loro avanti io vado dietro perché quando i tempi sono non adeguati si rischia veramente di fare più danno che beneficio Anna come riconosci un paziente che oltre ovviamente la tua esperienza che è fuori discussione ma come riconosci un paziente che è entrato in trance che quindi ti sta parlando realmente e non un che non sta invece diciamo non voglio dire fingendo ma è molto controllato quindi ti veicola le cose che vuole esattamente veicolarti cioè questo è possibile comprenderlo dall'esterno lo sento io molto con la mia pancia sento che il paziente infatti in uno dei casi maschili io avevo sempre detto al mio paziente che lui non si era mai seduto sulla poltrona e che io aspettavo che si sedesse a un certo punto lui si è seduto e si è affidato lo senti che la persona si affida lo senti che la persona si racconta proprio diventa una comunione veramente molto 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 profonda d'altra parte andare da uno psicoterapeuta da un ipnoterapeuta per prenderlo in giro non ha nessun senso paghi qualche cosa che poi in qualche modo diverso è se opponi delle resistenze inconsapevoli quella è un'altra storia ma andare scientificamente dallo psicoterapeuta per pagarlo e dirgli una serie di storie insomma può avere valore se è un discorso di famiglia di coppia eccetera ma come dicono le persone lo sgami subito lo percepisco subito insomma se il paziente si è affidato e come dico io decolliamo o se invece sta ancora vedendo i motori se funzionano se può abbassare le difese se tu se veramente tu ti puoi prendere cura di lui o di lei è una sensazione appunto è anche un lavoro delicatissimo che Anna fa benissimo perché anche io ho avuto la possibilità di sperimentare l'ipnosi in un momento particolare della mia esistenza devo dire che è stato molto utile anche aiuta velocemente a recuperare aiuta velocemente domanda successiva sarebbe stata questa intanto Anna chi la consigli e poi leggevo proprio perché diciamo può essere consigliata a una vasta gamba di persone ecco ci sono dei risvolti assolutamente positivi cioè no delle conseguenze immediatamente positive dell'ipnosi ce le vuoi raccontare un liberarsi questo forse poi ce lo può dire lei che ha svelato una cosa che io mai avrei potuto svelare ma lei sì stavo dicendo sì il discorso è che intanto anche se non vai in una trance profonda anche quelle sedute in cui non si arriva in una trance profonda sono comunque sedute benefiche intanto poi è un percorrere una strada di cui mi fa molto piacere non sapere dove andremo perché sennò diventa un lavoro no tipo timbrare il cartellino quindi stiamo parlando di persone stiamo parlando di sofferenza io la consiglio a tutti evidentemente viene sconsigliata soprattutto nei casi di dissociazione tipo le schizofrenie eccetera perché tu induci una situazione dissociativa per certi versi quindi nei casi di schizofrenia particolarmente grave no però nei casi di quelli più comuni che può essere l'ansia tantissima attacchi di panico tantissimi depressione tantissima beh funziona funziona molto molto bene sono questi i vantaggi sì sì assolutamente riesci a vedere quella parte di te alla quale non dai diritto di cittadinanza prima di entrare in quella condizione di totale rilassatezza e dove abbassi le difese ti affidi completamente a chi ti sta guidando perché effettivamente quelle paure di cui parlava Anna si sentono si teme di andare in una condizione in cui tu perdi il controllo non sai dove vai se la persona gestisce la tua vita invece se ti affidi riesci a vedere esattamente ciò a cui tu non vorresti mai dar diritto di cittadinanza è così sì sì come dice il professore nella prefazione se tu naturalmente risparmi di quelle energie che utilizzi per la realtà esterna le risparmi e le utilizzi per la realtà interna è chiaro che hai tanti vantaggi vantaggi certo Anna stavamo dicendo prima questa differenza diciamo di terapia tra gli uomini e le donne perché insomma diciamo gran parte delle pazienti sono pazienti sono donne sono donne no c'è una resistenza in realtà non so se è propria diciamo dell'essere femminile insomma questo spazio si fregia di aver incontrato tantissime donne però emerge proprio questo dato cioè il fatto che probabilmente la donna riesce maggiormente a mettersi in discussione quindi può essere la fine di una storia piuttosto che un rapporto genitori figli insomma la donna tende a mettersi in discussione cioè il problema posso essere stato io perché è successo questo in realtà la casistica che affronti è vasta è varia per parlare dall'aborto spontaneo che voglio dire qualcosa di cui ancora troppo poco si parla e che invece provoca dei dolori estremamente profondi vero quello che dici Anna quel dolore rimane lì se non lo portiamo a galla convinti che la vita faccia il suo corso perché poi alla fine è quello insomma la sintesi non si può girare pagine e basta esatto ecco le donne vanno di più dello psicoterapeuta è così perché le donne si fanno carico di più di tutto le donne è un fatto ahimè culturale difficilissimo no non esiste niente di difficile molto impegnativo per le donne stesse da superare come scrivo lì quando finisce una coppia è sempre colpa della donna che non è brava a letto non è brava in cucina non è stata capace di tenersi quell'uomo è sempre è solo colpa sua il discorso è che è proprio un fatto culturale e quindi la donna piange di più si dispera di più si flaggella di più e quindi va in terapia spesso va in terapia per tutta la famiglia perché poi io chiedo di portare anche il resto della famiglia ma è lei che prende appuntamento sono sempre le mamme le sorelle le fidanzate le mogli perché si fanno carico di tutto anche del benessere della coppia della famiglia eccetera e quindi anche perché appunto ripeto sentono che in qualche modo non sono state in grado di il che non è assolutamente giusto si portano quindi anche il carico di responsabilità se qualcosa non funzioni ecco perché sono le prime a muoversi e quindi la terapia è molto femminile ma se noi ci pensiamo le donne stanno dappertutto sono le mamme che vanno a parlare con i professori sono tutte mamme che vanno a parlare con i professori sono le mamme che vanno negli istituti medici a portare i bambini sono sempre mamme e sono sempre donne senti in una storia racconti proprio questo ribaltamento del paziente cioè un uomo che accompagna la sua insomma la sua fidanzata per la terapia in realtà poi alla fine chi usufruisce della terapia è lui sì nel senso che è venuto in terapia e ci ha tenuto a dire che non veniva per lui ma perché era stato necessario per accontentare la compagna ecco perché c'è stato un lungo balletto come lo chiamo io per sedersi su quella poltrona alla fine poi si è seduto e ha detto effettivamente sono io che ne ho bisogno ma le statistiche ce lo dicono no l'ho scritto gli uomini vanno in terapia pochissimo di solito sono quelli che hanno più bisogno anche perché guardiamo le cose dal loro punto di vista hanno un carico maggiore non devono esprimere emozioni non possono piangere non possono disperarsi non possono gettare la spugna molto meglio le donne che almeno si fanno un gran pianto e si liberano per tanti versi quindi hanno tutta questa pressione sociale grandissima e hanno più malattie poi alla fine sono le persone che in realtà si ammalano seriamente molto di più proprio perché hanno questo questo dolore questo disagio questo malessere contratto inespresso diciamo quando termina poi l'ipnosi può durare anche più sedute dipende dal percorso che tu devi appunto portare a termine da quel momento in poi che succede cioè chi è stato in ipnosi non possiamo dire chi ha risolto perché ovviamente non l'ha risolto perché non sappiamo appunto che cosa emerge durante l'ipnosi però da quel momento che cosa comincia? intanto come tutte le storie non la interrompi fai delle sedute che poi si distanziano e poi fai anche dei follow up quindi comunque il paziente viene gradualmente poi rimesso nella situazione della vita quotidiana dove peraltro continua a esserci e c'è la capacità della persona ecco posso sintetizzarlo con una bellissima frase di un paziente che mi ha detto io continuo a soffrire dottoressa però oggi so perché cosa soffro certo che è credo la domanda più frequente perché stare male no? lui diceva adesso so e naturalmente poi doveva prendere delle decisioni perché lì era un discorso dovuto a un cambio di sesso che non è una cosa proprio estremamente semplice però aveva focalizzato l'origine del suo dolore e quindi poteva in qualche modo guardarlo fermarlo non andava a cascata in tutta la sua esistenza era lì era quello la situazione e quindi lui mi ha detto oggi so perché lasciando intendere che poi doveva cominciare tutta una serie può essere consigliata ai bambini? l'ipnosi viene fatta anche ai bambini sì certo e c'è una risposta diciamo in termini di cura? sì io ho molti colleghi che lavorano con i bambini io non ho fatto grandi esperienze con i bambini onestamente io ho fatto faccio esperienze con gli adulti di solito non ho visto molti bambini però ho dei colleghi che lavorano anche con i bambini sicuramente con loro è anche più diretto per certi versi come dice Freud con i bambini ci sono meno filtri e quindi anche diciamo più agevole sì sì c'è l'ipnosi per bambini i bambini possono fare ipnosi senti mi indicheresti qualche pagina da leggere in particolare diamo intanto a chi ci ascolta la possibilità di capire il tenore no delle delle tue dei tuoi dei tuoi dei tuoi scritti e magari qualcosa che sia particolarmente per te rappresentativo di quello che abbiamo raccontato fino ad ora nel frattempo che Anna sceglie io vorrei dire che in quello che ha detto poco fa cioè nella consapevolezza c'è il legame tra la psicologia e la filosofia che sono discipline sorelle perché in fondo Socrate diceva gnotis e auton conosci te stesso quindi nel percorso di consapevolezza in senso filosofico poi si abbraccia il processo di consapevolezza che avviene in psicologia e in psicoterapia quindi non è poi così distonico questo legame tra queste due discipline insieme in questo libro ci dà la possibilità proprio di raccontare percorsi paralleli esatto attraverso diciamo materie completamente differenti che sembrano appunto agli antichi in realtà come dire il fulcro di tutto che le accomuna è l'uomo esatto io torno a me e mi vedo e vedo ciò che sono in questo io vedo un fortissimo legame e devo dire la verità che quando abbiamo scritto questo poi abbiamo anche pensato alla possibilità di affiancare il counseling filosofico alla psicoterapia che è una cosa che al nord Italia si fa già frequentemente cos'è il counseling filosofico? il counseling filosofico è una disciplina che si basa sulla relazione d'aiuto basata sull'analisi delle credenze dei valori di una persona che attraversa un momento di disagio per cui il filosofo che non fa altro che diciamo così raccogliere tutte le informazioni il grande Achenbach dice non prenderà mai il timone della barca del suo consultante ma lo aiuterà a dirigere la barca facendo questo analizza la Weltanschauung la visione del mondo della persona l'aiuta a risolvere il problema in questo c'è molta vicinanza con la psicoterapia con la differenza che però la consulenza filosofica si può occupare solo di un momento di un disagio esistenziale non certamente di un disturbo questo fondamentale infatti abbiamo già messo eh Anna qualche nuovo progetto in campo diciamo che sono tutte appunto paradigmatiche di situazioni particolari la prima è quella in cui appunto durante le sedute di ipnosi è venuta fuori l'abuso quindi anche questo possiamo leggere qualche stralcio e l'ultima ma è particolarmente lunga è proprio la storia di una donna devastata completamente devastata da una madre completamente anaffettiva che la proprio l'ha distrutta e lì ha avuto due figli da due mariti diversi situazioni sempre di grandissimo disagio e oggi ha ricominciato veramente a ricostruirsi comprandosi una casa per conto proprio in un paese lontano addirittura creando un rapporto di quasi di adozione con una signora del posto una madre putativa una madre che non ha mai avuto che l'accoglie l'ascolta quindi ricucendo quei dolori e quei disagi profondissimi quindi se tu vuoi possiamo leggere qualche cosa di questo forse è meglio che leggi tu che c'è quella bella voce pagina 25 questo l'ipnosi ha risvegliato l'ipnosi ha risvegliato un fantasma del passato ed è stato molto doloroso rivivere quel mostro ho vissuto momenti intensi ed alcune sensazioni fisiche mi hanno fatto male ma mi serviva affrontare quel dolore per risolvere altre questioni della mia vita da subito ho tratto anche dei benefici dall'ipnosi tanto che il disturbo d'ansia che era uno dei motivi che mi aveva spinto a cominciare il percorso terapeutico sembrava definitivamente risolto terminata questa prima fase del percorso ho continuato comunque a fare le sedute d'ipnosi che vivevo però in modo diverso rispetto a quelle iniziali erano cariche di tutti i benefici che l'ipnosi può dare e poi c'è il mio commento puoi cominciare di qui ho visto giusto c'è molto di più un devastante terribile abuso subito da piccola un abuso nascosto a tutti ma che le sta divorando l'anima del resto non ci si congeda mai dall'infanzia e dalla sua immensità buona o cattiva che sia resta sotto traccia la bambina il bambino a cui il mondo ha fatto male resta il dolore che se non elaborato è sempre pronto a risvegliare quella bambina o quel bambino che urla perché è sofferente così lei continuo sì sì così lei ha cercato di portare avanti una vita con una parvenza di normalità ed in punta di piedi sperando di non svegliare quella bimba e questo non è strano anzi è assurdamente normale ma il corpo non dimentica la psiche cerca di soccorrerlo con autoterapia nel suo caso un doc che le imponeva una pulizia ossessiva fino a spellarsi le mani un disturbo ossessivo compulsivo che ovviamente era come dici tu Anna un sintomo in questo è un sintomo e un'automedicazione nello stesso tempo perché il corpo cercava di soccorrere cioè lei quando andava lavarsi per ore e ore le mani eccetera poi stava meglio però doveva sempre ripeterlo proprio ossessivo compulsivo ossessivo perché doveva ripeterlo all'infinito compulsivo perché non ne poteva fare assolutamente a meno e quindi questo è uno ovviamente abbastanza pesante possiamo anche completarlo la sua storia è l'esatta dimostrazione la sua storia è l'esatta dimostrazione che a volte quando ci sembra di precipitare in realtà stiamo prendendo la rincorsa siamo sempre più forti di ciò che ci accade e che quella bambina addormentata forse tornerà a svegliarsi e a urlare così forte da renderla sorda al mondo che le parla ma adesso sa che lei può essere madre di se stessa e che può prendere in braccio quella bambina e rassicurarla cosicché una volta consolata tornerà a dormire e l'amore potrà arrivare per restare ed è così complicato per lei scegliere la persona da avere accanto perché deve saperla coccolare e curare rassicurandola sul fatto che è profondamente bella che le resterà vicino senza spaventarsi e scappare perché poi in fondo Anna è vero che quello che ci divorano che magari non ha un nome non ha che possiamo scoprirlo solo attraverso un percorso magari di psicoterapia o attraverso l'ipnosi come tu ci hai raccontato molto spesso si ripercuote nella relazione è inevitabile altrui nelle relazioni sociali in genere con i propri figli in tutto in tutto infatti alla fine questo è un libro d'amore lo chiamo io è un libro proprio d'amore e mi viene in mente appunto la conclusione della divina commedia l'amore che muove il sole e le altre stelle cioè dobbiamo andare nell'inferno nel paradiso nel purgatorio per arrivare in paradiso è un libro dell'amore e del coraggio dico io che il coraggio non è mancanza di paura è gestione della paura imparare a gestire la paura perché la paura ci appartiene però non possiamo avere paura della paura dobbiamo gestirla e lì è il vero è il vero coraggio e poi io a tutte le storie tutte le storie le concludo con una frase di qualche autore proprio per lasciare un dono a questo a questo mio paziente per esempio in questo caso è che la felicità chiede sempre prestiti al futuro che mi sembra una frase molto bella di Alda Merini tra l'altro dici bene questo è un libro sull'amore ma anche sulla potenza delle emozioni cioè capiamo quanto sono prevaricanti rispetto alla razionalità come dice Elena alla complessità anche di un individuo gran parte dovuta a ciò che sentiamo a ciò che avvertiamo e che a volte può risultare prevaricante rispetto al ragionamento però appunto tutto sta a controllarle pensiamo alla rabbia la rabbia è un'emozione importantissima perché è una delle emozioni che praticamente è la benzina della vita però quanta gente non riesce a governare la rabbia è sotto la rabbia distrugge picchia uccide quindi la rabbia come la paura esatto come la gelosia come qualunque cosa va controllata e bisogna soprattutto capire se qualcuno non riesce a controllarla perché certo per concludere cosa vorreste che arrivasse di questo libro tutto tutto vorrei che arrivasse tutto diciamo l'amore il mio lavoro la mia passione per questo per questo lavoro vorrei che arrivasse e soprattutto vorrei che arrivasse che l'invito a non soffrire inutilmente ecco questo sarebbe un bel suggerimento cioè quello di provare a trovare una spiegazione alla propria sofferenza alla propria come posso dire alla propria demotivazione sì demotivazione come abbiamo detto a cascata c'è tantissimo su tutta la nostra esistenza però spessissimo è inutile cioè capiamo risolviamo e viviamo per quello che siamo fatti cioè per la nostra felicità in qualche modo io direi mettersi in cammino mettersi in cammino lo si può fare soltanto quando si decide di mettersi in piedi rizzare la schiena e puntare all'obiettivo di star bene di migliorare perché bene o male poi tutti abbiamo momenti di di disagio di disagio profondo quindi veramente mettersi in cammino per guarire per guarire le ferite come come è la situazione dopo il covid è peggiorata? beh sì soprattutto ho richieste di molti adolescenti sì gli adolescenti hanno grandi sofferenze grandi difficoltà perché davanti a loro non vedono più un futuro fanno fatica a vederli gli adulti e quindi lo trasmettono ai propri ragazzi la scuola che è in una situazione di enorme impasse per cui quelli che stanno soffrendo tanto in questo momento sono proprio i ragazzi e quindi anche i suicidi o ragazzi che si fanno proprio male si producono no? l'autolesionismo per sentirsi in qualche modo vivi eccetera ma del resto lo dicevamo con Elena venendo accendere una televisione e sentire continuamente di ragazzi che si accoltellano che vanno in rissa che si fanno male ma proprio con la voglia di farsi male e quindi è solo è solo determinato da un grande malessere tutto questo profondo come valuti il bonus psicologico? beh certo lo valuto bene e l'ordine insomma ha insultato di fronte al bonus certo almeno ovviamente non è è limitato la panacea chiaramente però comunque si comincia a capire che c'è tutto un discorso psicologico che deve essere come si dice attenzionato ma molto la cosiddetta emergenza silenziosa che è quella psicologica no? che è serpeggiata dai due anni succedono queste cose che noi diciamo la famiglia normale che ha fatto delle cose quando normale non è più un termine psicologico perché non esiste una norma delle persone o per esempio un altro caso veramente molto interessante ma ce ne sono tantissimi di quella commercialista al top della sua vita aspettava un bambino era felice e si è suicidata quindi e il marito era diciamo veramente disperato perché diceva io non ho colto niente ah certo poi lì subentra anche il senso di colpa anche di non aver saputo interpretare come dicevamo prima i segnali i segnali no? del malessere perché è evidente che da qualche parte viene fuori no? c'era questo malessere sì sì certo quindi avere a portata di ma uno psicologo un ipnoterapeuta è meglio grazie Anna per essere stata con noi Anna Cagliati psicologa psicoterapeuta specializzata in ipnoterapia ericksoniana Elena Ventura grazie Elena docente di filosofia e counselor filosofico grazie per questo contributo Anna solo in chiusura dove si può trovare questo libro e chi vuole per mettersi in contatto con te e come può fare posso dare intanto la mia mail certo perché io rispondo puntualmente le mie la mia email è annacaiati chiocciola alice.it e quindi rispondo a tutte le domande il libro lo si trova presso la biblioteca di Babele in piazza Longobardi a Trani l'unica cosa che è aperta dalle 18 alle 20 la sera e per chi ha difficoltà a raggiungere Trani si può sempre si può sempre far riferimento alla casa editrice la Crowdbox e a Stefano Bianchi che si può comprare anche online c'è uno sconto che in qualche modo compensa le spese di spedizione grazie ancora per essere state con me grazie a voi e magari la prossima volta raccontiamo ancora qualche altra storia volentieri che ci permette di capire insomma volentieri ecco come si sono evolute nel tempo queste storie di cui oggi abbiamo ovviamente solo fatto un brevissimo ceno grazie a voi per averci seguito come sempre Femminile Plurale torna alla prossima settimana siamo su tutti i social il nostro canale YouTube vi dà la possibilità di guardare tutte le nostre puntate tutte le nostre stagioni e appuntamento alla prossima settimana grazie